secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie andare a cercare ogni cosa no dai ma non è che la parola ma figo c'è niente di male nel dirlo ma nel ridere sì e mi è scappato però è una persona fidata te lo posso garantire ce la conosco bene purtroppo però sì c'è ovviamente domani probabilmente lo venderà con i suoi compagni di classe però ti posso garantire che non lo darà nessuno al massimo per cento euro perfetto te lo mando subito io conosco come funziona la psicologia umana viso che mi colla una vetrina sulle stelle con la musica da ballare da ballare ho paura della fame di una pistola che ponte come stare senza chiave senza spunte sopra un palmare sopra un palmare cosa dai con quell'aria di quella che non c'ho mai voglia di sapere un po' come stai voglio solo capire che cosa posso dire grazie grazie mille grazie a voi davvero un piacere ragazzi una cosa grinna grazie gran bull ma chi è Alberto? Alberto Alberto l'altro giorno ma scusa Gilbert e Fede You? no ma non so io chiedo perché non ho capito no c'è un piccolo un altro misunderstanding siamo al quarto e no non è un problema con questa molto atea sì ma proprio molto? molto molto atea quanti? 1 eh? 1 80 1 70 no non altro 1 e 62 sono atea 1 e 62 brava brava strema due volte a settimana un cazzo si lamenta per quanto noi possiamo e poi ragazzi io sono anche stato flammato da Greenbound questa sera ma come? ha flammato lui? ma perché? non lo so quanto pare ha parlato anche tutto sembra più distante sono in shadow come Hunter vedo il mondo così grande che mi siedo solo sulle panche tutto sembra più distante sono in shadow come Hunter vedo il mondo così grande che sembra poi mi prendo male se in questa vita sento pare che mi fessa non abbiamo parlato tanto visti non ci siamo più visti quindi perché abbiamo giocato a Fortnite? sì abbiamo parlato dal telefono però non non so bene dirti vabbè quello che insomma quello che pensavi prima magari parti i cambiamenti indicativamente quello che pensavo prima sì è una cosa che mi chiedono sai spesso è se tu sei la stessa persona Matteo vediamo no no io c'è mutande non posso c'è mutande ci sta ci sta ci sta ok perfetto coq vediamo devo fare la prova dei muscoli dai quando Maranza quando ci invita a casa mia ci fai biscotti con latte aspetta aspetta c'è coq c'è coq mi piace parlare di solito a Milano Marittima no è in Svizzera l'oceano è un club di realtà virtuale dove ci sono delle cose dai mettaverso dei versi ci sono in un certo senso sai che io adoro il mettaverso è un bordello no ma dai scusami ma è originale se posso permettermi cioè comunque non stupisci quella in cui lui è sopra io lo braccio tipo un koala che lo stengo no non è quella minchia che sottoversata ma scusami cosa raccontamela un attimo questa perché non l'ho capita no nel senso che lui è sopra e io metto le gambe così sopra di lui cioè non so come spiegare le intrecci sulla sua schiena tipo peso tipo 47 tipo no è da un po' che non peso io io fai con le ragazze di 70 80 kg sono leggera sono leggera io sono quasi 1,90 83 kg devo non ci preoccupare perfetto riuscire a se tirar su me 75 kg sì anche tu anche tu ci porti ci porti insieme con tutti i muscoli che c'ha ma no che cringe giù sono leggera sono leggera I found a girl Beautiful and sweet Oh, I never knew you were There's someone waiting for me Cause we were just kissed When we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time Vado avanti queste rime Te le piego Non lo so, non nego Non nego quel che sono Non posso Stavo per sbagliare Stavo per farmi bannare Sono un rapper un po' banale Ha fatto tutto lui Ok, io non ho detto contro di te Perché devo avere qualcosa contro di te Libero, bro Perché la gente come noi non molla mai Bravo, bro Mentalità Non l'abbiamo ancora sentito questa sera Ha invertito le note No, beh, sto vedendo se è portato Io farò scusa Ho sbagliato Scusa Ho proprio l'idiota No, ho sbagliato Devi stare zitto, Simone Come ce l'ha detto Non sono qui Può gesticare chi crede Chi non crede Io rispetto le scelte Ognuno di noi Perché non sono Scusa, pure io rispetto La tua scelta È un po' questo Dimmi pro Dimmi pro No, Gilbert Volevo chiederti una roba Gilbert Ma qual è la tua lingua madre? Cioè, qual è la lingua che parli meglio tu? Francese e inglese Meglio inglese o francese? No, paese È l'unico paese in Africa Che fa le due lingue Camerun È stato colonizzato Con la Francia e l'Inghilteria Mi sono fatto la scimicistetica I miei capelli Avevano problemi Adesso ce l'ho le capelli biondi Adesso È successo tutto in un attimo Un nero con i capelli biondi Non l'ho mai visto in vita mia Giuro Matteo Per favore La prima volta Oh, è vero? Ma è vero? Non è la prima volta che lo vedo Un nero con i capelli biondi La prima volta Che scelere? Non l'ho mai visto Ma Gilbert Ma quindi oggi Ti dovremmo Dovremmo parlare a te Come fossi una donna? In due senti GBT ma fai bene tu A essere così Caaaa Caaaa Caaaa